Katia, non solo in odontogliatria ma anche per le altre patologie, la prevenzione oggi è importantissima se non fondamentale, sei d'accordo? Io sono d'accordo Gianni, è fondamentale prevenire le malattie piuttosto che curate e dobbiamo vincere la nostra pigrizia, perché sei un po' così, ah ma tanto noi stiamo bene perché dobbiamo solo prevenire, prevenire quello che non c'è, in realtà noi ci facciamo, è fondamentale e un grande saluto ad Absalute, grazie. Anche da parte mia, un saluto ad Absalute, da Katia Ricciarelli e da Katia Ricciarelli soprattutto.